Quest'anno abbiamo fatto 23 punti in 11 partite. L'anno scorso abbiamo fatto 23 punti in tutto il girone d'andata. Siccome questa è una squadra in continua crescita, è giusto sottolinearlo. Dopo, siamo primi, siamo contenti, ci godiamo il primo posto, però cambia poco. Il nostro atteggiamento deve essere sempre questo. La dimostrazione della crescita di questi ragazzi, stando il fatto che subisce un rigore... definiamo lo dubbio tanto per non essere... succede, va bene. Non stai lì a crearti degli alibi di nessun tipo, metti giù la testa, ricominci a giocare, cerchi di vincere la partita lo stesso. Secondo me questa è una grande dimostrazione di maturità, di crescita. Il cuore c'è e quindi questo è già tanta roba. Simone è in un momento felice, sono contento per lui, sarei meritato dopo tanto lavoro. Adesso lo invito a non mollare niente, anzi darsi ancora più da fare.